Hanno distrutto tutto, sedie, scrivanie e porte, lasciando completamente a suo quadro gli uffici e anche quelli della dirigenza, probabilmente alla ricerca di soldi, un'irruzione nel cuore della notte attorno alle 4 allo stadio di Arezzo. A fare la mara scoperta questa mattina i dipendenti quando sono arrivati al lavoro, molto probabilmente l'obiettivo dei banditi era l'incasso della gara playoff tra Arezzo e Novara, che aveva richiamato negli spalti quasi 5.000 spettatori, ma di soldi non ne hanno trovati. Così, dopo aver devastato tutto all'interno della sede a Maranto, i malviventi sono passati allo studio medico che si trova all'interno dell'atrio dello stadio. Hanno rotto un vetro, sono entrati dentro, hanno rovesciato tutto il bancone cercando dei soldi, ma chiaramente chi è che lascia i soldi dal venerdì per il lunedì? E niente, hanno fatto danni un po' da tutte le parti a quanto abbiamo letto. Fortunatamente altre cose a noi non hanno toccato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, al vaglio degli inquirenti, anche le telecamere di sicurezza della zona alla ricerca dei responsabili del raid notturno. Non nessuno è più sicuro? No, penso proprio di no. Poi qui la notte, voglio dire, non possono essere sicuri perché chi è che viene a controllare la notte qui? Se uno entra fanno quello che vogliono. Purtroppo l'hanno fatto.